buongiorno ragazzi ultima classe della settimana venerdì 22 giugno oggi lavoreremo con uno dei miei esercizi preferiti cioè lo shoulder ring con la stone ci scaldiamo bene con la bike e la corsa cerchiamo di attivare bene il motore per poi passare a dell'attivazione della schiena con il disco delle flesso estensioni in modo da scaldare bene la schiena per poi attivare le anche attivare le anche con dei piccoli set di kettlebell swing mano a mano più pesanti per abituarci all'estensione che necessiterà la stone per essere portata sulla spalla da lì avremo 15 minuti per creare un sollevamento molto pesante con la stone cercheremo la stone più pesante che riusciremo a sollevare stone che sarà protagonista anche del workout successivo quindi avremo 5 round di 5 shoulder ring con la stone da 70 kg per l'uomo 50 kg per la donna e 15 box jump 15 box jump alti quindi 70 centimetri uomo 60 donna un po più alti del normale qui la valutazione del carico è sempre fondamentale quindi non bisogna rallentare troppo tra una stone e l'altra pesante sì ma non tale da farne una ogni due minuti e i box jump i box jump vi richiederanno molta esplosività anche qui se l'altezza di 70 centimetri per l'uomo e 60 per la donna dovesse risultare eccessiva si può scalare abbassando l'altezza del box detto questo vi ringrazio buona settimana a tutti e ci vediamo presto ciao